su Paveone siamo sicuri che se ne aiuta o sta ancora a Cattuoli? il 100% è andato via i piccoli amici di Spagna mi hanno detto che sta là e non si muove? si ha fatto proprio... si ha fatto proprio fare un rientro in Italia e l'è rimasto in Lorenzo è stato a fare poche convergenze e se ne va? vabbè comunque ci si trova per calzonare per quanto c'è una cameretta con i motori dimmi? eh la Cattuoli sono filmato e chi mi diceva che era il filmato? sono tu all'anno via mi dico via con i balli via insomma dimmi una cosa ma stupiamo no? fare un po' di qua giù perchè... è difficile da vendere? io ero qua, ero qua mi hanno detto che faccia in Apolo se ci si parla per loro non lo so tu l'avamo che faccia questo è adesso si sta andando a vedere hanno due o tre cose che ci hai dato a pronostico e Te Zerba a Napoli pure Sarri rimane a mattino oh addirittura Sarri Maurizio Sarri a Napoli ehi ehi veniamo a guardare cosa, non stiamo guardando venga un po' roba allora tu ti dici che Sarri ti scusiuti che hai vestito da la faccia e te Zerba il po' di lì adesso mi ha portato pure anche il numero 7 come si chiama? bocca eh ecco qua picciona ma perché cattuso non è buco non mi fa parlare quello che vedi l'ha visto già pure la società è un muovere ma non è cosa che già ritmo vicino alla gente ne parleremo a settembre perché i clausoli non ci convincono dopo che vado a trovare i clausoli cattuso si ma è a parte allenato ci vanno in quattura eh vabbè ci vanno in quattura in primis ci stai parlando solo i cattuso ci vanno in quattura ci vanno 8 calciatore 3 punti lì c'entra e campista c'è ancora una data e il dito il sino sinistro faceva un terranito se rinché 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 un terranito guarda no guarda no colambo con cagliari va a fare poche villeggiature a sardegna e a Napoli si è spastriato la villeggiatura va a fare sardegna questo là è un mare nuovo barbaggiato come stai venendo attaccando stai venendo attaccando uno solo petagno petagno stavolta il cigarito stavolta il trusatagno non è un fenomeno non c'è bisogno di produccire tutto non è un fenomeno un fenomeno addirittura ma petagno non è un fenomeno ma lo voglio bere non è cattanecino 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 cosa meno tutta la pasta va su tutti i maccaroni cosa meno come è un petagno è buono per le taglie fermo i palloni non ci vuole vicino come fermo eh ma ora non ho visto i 40 palloni però prima di venire a Napoli ci sono domande uno frate e chi ha visto il pallone è buono è buono ma arriva l'ottava nonno è buono fermo il pallone e si mette per la terra con 500 metri non fa farci giurare il quilo è buono e si fa il pallone e chi ha visto il pallone non è più di più perchè ora si riporta ma arriva l'ufficiale o no arriva l'ufficiale o no come si possa il banchino ah il banchino si chiude ma si fa il banchino la tribuna sta pure sempre a Napoli tribuna massima sarà a Napoli io mi si sarà a Napoli sarà a Napoli ciao haiервis ciao 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 Grazie a tutti.